Incidente mortale questo pomeriggio nel tratto tra Frascinetto e Civita. Due Audi, una A4 e un Audi 80 si sono scontrate frontalmente. Nell'urto le vetture hanno preso fuoco. Sull'Audi 80 viaggiava in direzione Castrovillari Giovanni Martire, 61 anni, noto dentista della città del Pollino. Forse per un malore, la vettura guidata dal professionista ha cominciato a zigzagare scontrandosi con l'Audi 80 che proseguiva verso Civita guidata da Antonio Pellegrino, 58 anni, di Frascinetto, ora ricoverato per alcune ferite presso l'ospedale di Castrovillari. Sia il professionista castrovillarese Giovanni Martire che l'altro automobilista hanno fatto in tempo ad uscire dalle autovetture prima che prendessero fuoco. Per Martire, che si è accasciato a terra subito dopo l'impatto, soccorso da un'autoambulanza del 118 di Castrovillari, per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul posto, dopo lo svincolo di Frascinetto e Iannina, i rilievi del caso ad opera del nucleo operativo radiomobile del comando dei carabinieri di Castrovillari. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco di Cosenza guidata dal caposquadra Francesco Gelsi che ha dovuto domare le fiamme delle due autovetture che sono andate distrutte.